Le città vivono di nuovo slancio d'energia grazie alla diffusione dello skateboarding. Una pratica sportiva che nel tempo si è trasformata in un vero e proprio stile di vita. Nata in California negli anni 60, tale disciplina è diventata una moda tra i giovani, così come Captur è diventato un SUV urbano di tendenza, lanciando il suo stile street nel 2013 con le Zip Collection, il cassetto Easy Life, il B-Style e tanto altro. Surfare sulle quattro ruote, farsi strada negli spazi urbani, scivolare senza sforzo tra gli eventi quotidiani, questo fa Captur. Un'icona che attira gli sguardi e che è pronta a catturare anche il cuore con le sue acrobazie energetiche ai massimi livelli. Unico modello Renault ad offrire la gamma ibrida e-tech al completo, già lanciato nella versione ricaricabile a fine 2020, oggi Captur completa l'offerta con la versione full hybrid, una vera rivoluzione nel mondo ibrido. Un'opera ingegneristica straordinaria che cattura l'energia, permettendo all'auto di circolare per l'80% del tempo in elettrico in città senza doversi mai ricaricare, riducendo i consumi di carburante e limitando le emissioni di CO2. Sono due le scelte ibride ad alta elettrificazione e-tech su Captur. Il plug-in hybrid che ricaricando la batteria consente di muoversi liberamente in modalità elettrica senza rimanere per strada, grazie anche alla doppia alimentazione. E il full hybrid che si ricarica automaticamente grazie al recupero energetico, ideale per vivere la città quasi sempre in modalità green, senza sforzo. Sprigiona la tua energia con il nuovo Renault Captur e-tech 145. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.